La terapia del carcinoma ovarico vede nell'intervento chirurgico il tempo terapeutico fondamentale. La finalità principale di questo intervento è l'asportazione di tutta la malattia visibile, poiché alla diagnosi il tumore ovarico spesso si presenta già diffuso ad altri organi e distretti della cavità addominale. Oggi è fondamentale la collaborazione con gli altri specialisti, perciò col chirurgo e l'urologo, per poter consentire l'asportazione di questa malattia in maniera completa, ma anche la preservazione delle funzioni degli organi. La finalità terapeutica è quella sostanzialmente di consegnare la paziente dopo l'intervento con la minor malattia residua possibile, in modo che la chemioterapia sia più efficace. Grazie per la visione!